Fare più tamponi possibile, tracciare i contatti dei positivi allargando le maglie dei test e poi vaccinare tutti coloro che ruotano attorno alla persona con variante Delta, sia nel contesto sociale, familiare o lavorativo, sia in quello geografico di residenza. Così il nuovo piano della Regione Veneto per arginare l'avanzata della contagiosissima variante Delta. La circolazione virale in Veneto ora è bassa e questo consente di individuare e tracciare i positivi andando a scovare e circoscrivere la variante. Le nuove misure sono state illustrate dalla dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale. Tutti quelli che sono stati messi in quarantena, che siano familiari, che siano contatti lavorativi, che siano contatti della vita di comunità, della vita sociale, offriamo la vaccinazione. Oltre a questo offriamo la vaccinazione non soltanto ai contatti, diciamo familiari e non, ma anche a tutto l'ambiente che questi hanno frequentato. Questo significa ad esempio che verrà offerta la vaccinazione ai colleghi di lavoro della persona positiva, la variante Delta, ma anche ai residenti nello stesso condominio o nello stesso quartiere o distretto in caso di cluster localizzati. Un'attività di vaccinazione che potrà essere fatta anche sul posto. Questo può valere per il condominio, quindi il palazzo, che è fisicamente diciamo dove abbiamo trovato il caso, ma può interessare anche la via, un quartiere, può interessare un comune se questo è piccolo, oppure può interessare un distretto. Verrà poi rafforzata la chiamata diretta per gli over 60 non ancora vaccinati, cosa che vale in tutta la regione, ma a maggior ragione laddove ci sono casi di variante Delta e per le persone vulnerabili, per le quali sono raccomandate due dosi di vaccino, anche se hanno già avuto la malattia. Inoltre, nelle aree dove viene individuata la variante, verrà riprogrammata la seconda dose di vaccino anticipandola nell'intervallo minimo di tempo, 21 giorni per Pfizer, 28 per Moderna e 4 settimane per AstraZeneca.